La sua storia fa pensare alla ricomposizione di un puzzle e in realtà quello di oggi è il secondo tassello della ricostruzione di un'intera opera pittorica, trafugata dalle tuppe naziste dopo l'8 settembre del 1943. In quelle tragiche giornate che seguirono il proclama dell'armistizio di Badoio, i nazisti portarono via dalla caserma catena di Verona un enorme dipinto di Michele Cammarano, affermato pittore risorgimentale dal titolo Carica dei Bersaglieri. L'opera fu sezionata e i frammenti furono messi sul mercato a partire dagli anni 50 come singoli dipinti del Cammarano. In questi giorni i Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Napoli e Venezia hanno recuperato e sequestrato un ampio frammento del grande dipinto, il secondo, dopo il recupero nel 2013 di una prima parte restituita nell'agosto del 2014 all'ottavo Reggimento Bersaglieri di Caserta, oggi custode di tutta la documentazione e teledradizioni dell'arma ed erede di quel reparto che nel 1943 era a distanza proprio nella caserma catena di Verona, luogo del trafugamento. L'opera era di proprietà del titolare di una nota casse d'aste di Napoli che la possedeva in assoluta buona fede per l'aver ereditata dal padre che a sua volta l'aveva acquistata negli anni 70. Grazie alle informazioni contenute nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, il più grande database del settore al mondo, gestito dal reparto speciale dell'arma dei carabinieri, è stato ancora una volta possibile riconoscere il frammento recuperato. Inoltre la carica dei Bersaglieri di Cammarano era anche inserita nel famoso catalogo L'Opera da ritrovare, il repertorio del patrimonio artistico italiano disperso all'epoca della Seconda Guerra Mondiale, realizzato da Rodolfo Siviero, già ministro plenipotenziale della Repubblica Italiana e vero e proprio detective dell'arte che riuscì a recuperare molte importanti opere d'arte trafugate durante la Seconda Guerra Mondiale. L'attuale proprietario del frammento lo ha donato i Bersaglieri, riconoscendo nell'alto valore storico e simbolico e il quadro è stato consegnato stamattina dai carabinieri all'ottavo reggimento dei Bersaglieri di Caserta.